Uno one shot, quello lì che da te è one shot Ma Ho fatto proprio un bel lavoro, tutta la squadra a terra Ho preso il banner di uno dei nostri, possiamo riportarlo indietro E stai ziii che fin A provare E io sparo Poi ricarico No Poi anche la wingman me l'ha fatto Oh figa Oh figa Oh figa Oh figa Oh figa Ma Chi è coittato Neh Madonna al primo Mi ha tirato una traccata al primo Madonna Oh cazzo Solo un minuto alla chiusura Boh anche queste Mi stanno andando Ricaricando gli scudi 45 secondi alla chiusura della neve E' molto eccitante Ho fatto proprio un bel lavoro La squadra a terra Oh da malestiamo Solo 10 secondi Tic tac Sì Sì Bello il tp Ha ne è piaciuto però Ci ha chiesto un po' troppo Ma sì Ehi qualcosa ci avevano Forse non amo Però Ma io ne so andare Questa volta Non lo so Oh ma tanto mancano 21 persone Ma prima ne mancavano 20 What Ah ho restato Ah ho restato Capsula assistenza in arrivo Adoro le sorprese No qua da me è free Non so dove andare Vado verso Gautlet Vado verso Gautlet Potrebbe esserci qualcosa di buono Da questa parte Ok Arrivo con una ziplane Ah ok 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 Nice Raid down È top qua Eh, non posso farle 20 Mancano 12 persone